Benvenuti a Stingi e Fabio De Santis hanno conquistato l'oro di 200 stile a Roma gli italiani, è stata una soddisfazione per l'oro oppure l'analezza per il quarto posto nei 200 listi? Sicuramente è stata una grande delicità per l'oro di 200 stile a Roma e il primo in carriera nel 300 stile a Roma e sono di buona verità italiana e questo è un altro nuovo italiano per l'interstituzione di diverse in questo caso gli listi, gli indossi, gli indossi e i nostri stile a Roma e gli listi sicuramente c'è un pochino di malezza perché ho sbagliato tanto, hanno ancora una nuova, tutti gli paravano dei giusti per passare a un certo tipo di piano modo e quindi è più che funziona, però è un valore che ci può stare, tanto questo era un dicono che ho detto come ho detto all'inizio, gli ho dato un po' di massaggi importanti, ero sempre da tre massaggi e c'erano tanto la certa condizione e quindi il 100% ci arriverò agli europei da 10 giorni, quindi va bene così, dai, ci può stare per noi. Fabio forse della gara al talo della gira di Damiano, gli listi, dice così però questa volta è stato il del furo addosso, vabbè è stato, abbiamo una battenza un po' lenta nella gara che ha fatto, però poi il resto della forzione sarà ottimo, la gira stile a 84, quindi un pochino di ramarico per gli dimissi, però se l'espressione del vestito, questo ci vanno a spiare a vedere, per essere considerato il piano della gira di Damiano, questo sta a voi dietro, io diciamo che grazie a Fabio che mi ha insegnato a cambiare stili, comunque diciamo a, mi ha insegnato tanti stili, quando ero piccolo sono riuscito a, diciamo, a costruire appunto un grande stile misti, ovvero avere, diciamo, tanta forza e tanta velocità, un piano del vestito, nel dorso e nello stile, come dicevi tu, una rama è l'unico stile che, tra di due, perché la noma della gira, ma, non so, perché c'è, i dosi stessi liberisti, di solito, con una rama, no, terzino, poiché, proprio anche i desideri, diciamo, le costille lineare, come il dorso e lo stile, quindi diciamo che su quattro stile, il tre ce ne ho, ce ne ho buoni, il quarto lo costruiremo davanti. Grazie a tutti.